Bene, allora vediamo come funziona il team di Trading Room. Vedremo anche il team segnali da valutare. Sono due team concepiti per lavorare in sinergia. Lo scopo di tutto questo è attivare una discussione per quello che riguarda l'operatività di tutti i giorni, quindi condividere l'opportunità e tutti i passi che hanno portato ad una piccola spesa oppure a un profitto. Ok? Vediamo innanzitutto il team segnali da valutare. Io qui condivido ogni giorno, quando ci sono opportunità, i segnali che prendo in considerazione. Tutti quanti i segnali, sia quelli che utilizzo poi per le mie gestioni, sia quelli che invece mi limito soltanto a valutare. Lo dico sempre che noi abbiamo bisogno ogni giorno di alimentare due bilanci. Un bilancio in termini di esperienza e un bilancio in termini economici. Quindi, anche quando non operiamo a mercato e ci limitiamo soltanto a valutare le opportunità, facciamo qualcosa di utile perché ogni giorno ci dobbiamo preoccupare innanzitutto del bilancio in termini di esperienza. osserviamo le opportunità, leggiamo magari il commento degli altri utenti, capiamo sempre di più come quelle opportunità vanno gestite e miglioriamo la nostra esperienza, la facciamo crescere. E questo bilancio può soltanto crescere se ci dedichiamo naturalmente a studiare ogni giorno. Ok? Piccoli dettagli. Un po' di tempo ogni giorno è sufficiente per crescere in questo settore. Ok? Non c'è bisogno di un lavoro intensivo. Anzi, spesso il lavoro intensivo è controproducente. Serve un lavoro sistematico che dura nel tempo piuttosto che cercare di fare tutto insieme. Quindi lo scopo di questi gruppi di lavoro è poter dialogare e collaborare ogni giorno per fare un buon lavoro sul lungo termine. Quindi, come dicevo prima, lavoriamo ogni giorno per alimentare un bilancio in termini di esperienza e facendo crescere questo bilancio poi tutto questo si porterà dietro anche il bilancio in termini economici. Ecco, è sbagliato entrare nella community o comunque iniziare a studiare il trading pensando subito ai profitti. Perché? Perché per poter produrre abbiamo bisogno di esperienza. Se manca quell'esperienza dobbiamo prima pensare all'esperienza e poi vedrete che i profitti inizieranno poi a crescere e a quel punto poi inizieranno a crescere anche in modo costante. Quindi, adesso vi spiego come funzionano questi due team di lavoro e come possiamo collaborare. Sono due team ADV2, quindi concepiti per studenti della community che sono già in una fase avanzata, ovvero che hanno già studiato tutte quante le basi di trading nel corso di startup e nel corso ADV1. Ok? Fatto quindi questo primo passaggio che serve a poter dialogare, vedete uno dei problemi che abbiamo nel settore è che ogni trader lavora con approcci anche diametralmente opposti. Approcci che vanno bene per ogni trader naturalmente, ma questo impedisce una collaborazione, un dialogo. Perché i trader che lavorano bene ma con approcci diametralmente opposti non hanno punti in comune per poter dialogare e collaborare. Mentre invece, quando nel 2014 ho creato questo progetto, ho creato questo corso che serve per allineare le competenze di ognuno in modo da poter dialogare e collaborare. Ok? E quindi poi si fa tutto questo nei team di lavoro dopo aver studiato le basi e dopo aver studiato anche argomenti un po' più avanzati si collabora e si migliora diciamo ogni giorno. Nel team segnali da valutare e quindi condivido i segnali che prendo in considerazione ogni giorno, sia quelli che utilizzo per operare sia quelli che mi limito a studiare. Va bene? Vedete le ultime pubblicazioni risalgo da tre giorni fa perché non ci sono state altre opportunità. Riguardano appunto Eurosterlina, questa pubblicazione riguarda Eurosterlina, metodo TFMI, quindi un'attività più a lungo termine, un metodo di trend following questo. Ok? Quindi condivido l'opportunità. Gli utenti che hanno già studiato le basi sanno che questo tipo di analisi va gestita in un certo modo. Non abbiamo bisogno di dirlo, già lo sanno. Ok? E quindi se hanno bisogno fanno domande, io rispondo e do, diciamo, quel supporto che serve per valutare il segnale. Lo scopo di questi segnali oltretutto non è quello di suggerire un segnale da copiare, ma è quello di allinearci la mattina in modo da poter confrontare i segnali che ho valutato io e i segnali che hanno valutato gli utenti, in modo da capire se i segnali sono validi, se non sono validi. Talvolta io pubblico e qualcuno mi scrive, ah ma io avevo valutato questo segnale in questo modo, effettivamente hai ragione di tu. No. Quindi si attiva, seppur da poche settimane, perché questi team sono nuovi, si attiva una discussione che è costruttiva, che ci aiuta ogni giorno a fare un buon lavoro, insomma, con il nostro trading. Va bene? Sterlina Dollaro, metodo cash, quindi opportunità di breve termine. Stesso discorso, gli utenti, poi potete scaricare naturalmente anche l'immagine grande, gli utenti già sanno cosa fare, gli do i punti di riferimento che gli servono e talvolta li pubblico la mattina l'opportunità così come si forma di prima mattina e come poi reagisce nel corso della giornata o nel corso di più giorni. Ok? E così via. Nel momento in cui io prendo in considerazione una di queste opportunità per operare, mi sposto nel team di Trading Room, dove sia io sia gli utenti possiamo condividere le opportunità che andiamo a gestire, andando a commentare step by step le varie fasi che hanno portato ad una piccola spesa o a un profitto. Va bene? E quindi nel team di Trading Room andiamo a fare proprio tutto questo. Vedete, quando ho iniziato l'attività di trading ho avuto difficoltà a confrontarmi con altri trader perché come ho detto ognuno lavora a modo proprio e quindi ho sempre desiderato una struttura di questo tipo una piattaforma di questo tipo per potermi confrontare, per poter dialogare. Via via il progetto sta crescendo via via ci saranno sempre più community trader e quindi potrò a quel punto anche io trarre beneficio da tutto questo perché in questa fase io condivido soltanto. Ma quando ci sarà un gruppo nutrito di community trader che collabora e che condivide, allora a quel punto potrò confrontarmi anche io con loro, come dire, alla pari in modo da poter costruire qualcosa insieme, magari anche di migliore rispetto a ciò che ho prodotto fino adesso. Va bene? Qui per esempio spiego che questa opportunità del metro cash non è valida e spiego qualche dettaglio da un punto di vista operativo. Ok? Oppure questo è per esempio l'opportunità su euro sterlina che avevo segnalato, mi sono spostato di qua e ho commentato un po' i dettagli della gestione. Ok? Oppure euro dollaro, questo Roberto ha condiviso l'opportunità e ne abbiamo parlato insieme. Vedete si attiva una discussione costruttiva. Qui c'è per esempio Sergio che ultimamente ha pubblicato degli analisi nell'area forum dove praticamente ogni utente può fare delle domande e attivare una discussione parallela rispetto a ciò che viene condiviso nel gruppo e tutto questo poi resta a beneficio degli utenti. Ognuno può pubblicare la propria analisi o una domanda per quello che riguarda un singolo caso, una singola opportunità. L'obiettivo è utilizzare quest'area per condividere qualcosa che resta poi in quest'area a beneficio di tutti quanti gli utenti in modo che io possa poi fornire una risposta e lasciarla lì in modo che i prossimi utenti che arrivano possano beneficiarvi. Insomma, ecco. Va bene? Questo è quanto. Insomma, ecco, queste sono le attività pratiche di training che svolgiamo nella community. Quando vi sentite pronti per studiare tutto questo e collaborare, dal blog vi potete registrare in home page e ricevete anche il codice sconto di 30 giorni per entrare e iniziare a capire se quello che facciamo nella community è compatibile con le vostre esigenze. Se sarà compatibile potremo fare un ottimo lavoro insieme. Questo è essenziale perché poiché è un rapporto di lungo termine voi avete bisogno prima di capire se quello che facciamo corrisponde a quello che sono le vostre aspettative. Se il nostro training e il training che pratichiamo va bene per voi con tutte le possibilità annesse, insomma, che poi nei vari video spiego, allora no, vi investite il vostro tempo perché è un investimento più che altro in termini di tempo perché è un rapporto di lungo termine perché il costo per accedere alla community è di 45 euro al mese. Quindi i primi 30 giorni sono gratuiti. Pagate mensilmente 45 euro, quindi non rischiate nulla. Sapete, quando è iniziato il progetto mi avevano suggerito di utilizzare un approccio simile a quello che viene utilizzato con le società di formazione, quindi un corso di pochi giorni, 2-3 mila euro e poi si inizia a operare. Ma non era l'approccio giusto perché non poteva essere per me un corso passivo, un corso intensivo perché io ho frequentato questi corsi nel corso degli anni già, diciamo, in una fase avanzata della mia formazione e mi sono stati utili. Ma quando li ho fatti, quando partivo da zero invece no. Perché? Perché quando partiamo da zero abbiamo bisogno di imparare nel tempo, di fare una cosa graduale. Allora io volevo una cosa graduale e non volevo obbligare gli utenti a rischiare un nostro capitale. 2-3 mila euro per una cosa che non sanno se poi è compatibile con le loro esigenze. Invece in questo modo voi potete sperimentare, entrare, non rischiare nulla e se trovate qualcosa che effettivamente vi piace, che corrisponde a quello che volete produrre con questa attività, vi impegnate. Il maggior investimento è in termini di tempo. Va bene? Tutto qua. Buon lavoro e alla prossima.